Atri, uno dei comuni più colpiti dal maltempo, Atri centro per cinque giorni senza energia elettrica, alcune frazioni sono rimaste senza corrente fino a poche ore fa e adesso c'è una nuova emergenza, quella dell'acqua. Purtroppo sì, siamo già stati senza acqua, adesso con gli smottamenti alle frane inevitabili dopo la grande nevicata, purtroppo dalle notizie che ci danno l'ACA ci sono delle rotture nella zona di San Giorgio, di Castiglione e Messerraimondo e quindi vicino Farindola e quindi alcuni adduttrici sono rotte e quindi stanno riparando, da noi arriva pochissima acqua, molte zone sono senza acqua ed è un'altra emergenza perché la gente è già stremata dalla grande nevicata, da tanti giorni senza energia elettrica l'acqua. Alcune frazioni anche isolate? Sì, per fortuna adesso non più, siamo riusciti a sbloccare, ad arrivare ovunque, quindi insomma siamo un po' più tranquilli ma i danni sono ingenti e c'è veramente una situazione preoccupante sotto tutti gli aspetti, non sotto l'aspetto sanitario per fortuna, però l'acqua insomma ecco è una cosa che si aggiunge ad un'emergenza che era già in atto da tantissimi giorni, noi poi avevamo subito anche la prima nevicata, per cui siamo diciamo in uno stato di emergenza oramai da quasi 20 giorni, cioè dal 6 gennaio, quindi è una cosa insomma che comincia a stressare tantissimo, la gente non ne può più e quindi speriamo insomma di trovare che gli enti preposti trovino una soluzione, anche la luce, questa mattina mi informavano che alcune zone di Atria, ridosso di Atricentro, erano senza luce, presumo che stiano facendo delle riparazioni, spero che insomma la mancanza di energia elettrica duri pochissimo. La comunità atriana è stata colpita anche dal lutto della tragedia di Rigopiano? Sì purtroppo sì, a questa grande emergenza si è aggiunta purtroppo il grave lutto che ci ha colpito dei tre ragazzi, io ero in contatto costante con i familiari e soltanto ieri purtroppo in questo caso abbiamo avuto l'ufficializzazione del loro decesso e quindi proprio questa mattina mentre venivo qui a Teramo parlavo con il genitore di Cecilia per concordare un po' tecnicamente perché purtroppo poi in queste situazioni adesso è il momento del lutto, del dolore, io credo che la città di Atri si sia stretta e non solo la città di Atri, intorno alle famiglie, noi abbiamo dato la totale disponibilità come amministrazione comunale, sicuramente ci sarà una camera ardenta, adesso ripeto domani mattina avrò un incontro con tutte e due le famiglie insieme e decideremo, purtroppo non ci voleva, questo non ci voleva perché i tre ragazzi che sono morti, le due ragazze e il ragazzo erano persone conosciute ma erano veramente persone squisite e splendide, sono tutti ma loro in particolare, io poi li conoscevo personalmente veramente bene quindi l'unica cosa è coestringersi ai familiari e fare silenzio, in questo momento c'è solo il dolore e il lutto, poi magari si vedrà cosa fare successivamente.